Signore, è appena accaduto qualcosa di imprevisto Sul video è apparso un blop Vuoi dire un blip? No signore, è un blop È troppo grande per essere un blip Passatelo sullo schermo Aha, ecco la città Oh boss Non riuscite a vederlo Impossibile Credo che dobbiamo andare fuori Ma prima, mi preparo tutto in dieci minuti Trovate quel blip Quella, quella, quella cosa che abbiamo visto sul radar Portatevi lì subito Oh!